Potare un albero nel proprio giardino è stato fatale per un anziano 74enne di San Costanzo, muratore in pensione, che era assalito sulla scala per tagliare alcuni rami dell'albero ornamentale di casa sua in Viale Togliatti, poco fuori il centro abitato. Ma qualcosa è andato storto, non è andato per il verso giusto, forse una perdita di equilibrio o una mancata aderenza della scala sulle foglie bagnate, questo lo stabiliranno le indagini dei carabinieri alla base dell'infortunio. L'uomo aveva quasi terminato le operazioni di potatura quando è precipitato da un'altezza di oltre 3 metri, battendo violentemente il capo sul cemento. Ad accorgersi dell'accaduto un vicino di casa che assieme alla moglie nell'abitazione in quel momento hanno chiamato il 118, arrivato in pochissimi minuti sul posto. I sanitari hanno trovato il 74enne di Facciaterra in una pozza di sangue privo di sensi e, valutate le sue condizioni gravi, hanno allertato l'elisio corso che ha poi trasportato il 74enne di San Costanzo al Torrete di Ancona, dove si trova tuttora ricoverato in rianimazione in prognosi riservata.